Sono passati già cento anni dalla nascita del liceo scientifico nissene, così la scuola si prepara a celebrare questo anniversario che ricade nel 2023. Cominceranno però già nelle prossime settimane i primi appuntamenti per ricordare questa ricorrenza e la storia del licevolta. Il filo conduttore delle iniziative in programma nei prossimi mesi sarà la dicotomia tra passato e futuro, dunque preservare la memoria, ad esempio con una mostra che raccoglie vecchi documenti e immagini della scuola, ma allo stesso tempo proiettarsi in avanti verso il mondo del lavoro e il confronto con le esperienze professionali di chi ha frequentato il liceo, come nel caso dell'appuntamento del 24 novembre. In questo mondo del 24, giocato al tema della scienza e il senso e la bellezza della scienza, noi avremo tre contributi, i nostri ex allievi che sono affermati professionalmente in campi importanti. Parliamo della fisica, con la professoressa Guida che insegna a Catania, la professoressa Santini che insegna all'università straniera, matematica, e poi dovremmo avere un contributo medico-scientifico anche qui del nostro ex allievo che si è affermato professionalmente a livelli importanti. Questo per dare un po' il senso che la scuola, per quello che l'è stata e se è stata, per quello che continua ad essere, è una scuola che ti prepara per fare in modo che tu possa realizzarti personalmente e professionalmente ad un certo livello. Questo è un aspetto molto importante. E da questo punto di vista, sempre secondo questo doppio canale, doppio versante, della memoria e il futuro prossimo, ricorderemo alcuni nostri insegnanti, un incontro che dovrebbe essere svolto a dicembre, in particolare parlo del professore Lapiana e del professore Mangiavillano, anche qui con contributi ex docenti di questa scuola, sempre secondo questa linea che combina le risorse passate a quelle presenti, e poi stiamo lavorando per un torneo sportivo promosso dal professore Terraneo, ex nostro insegnante, molto attivo nel campo dello sport cittadino qui a Caltanissetta, e un torneo sportivo per quanto riguarda due specialità, che sono la pallavola e il basket, in cui la scuola ha avuto una tradizione importante con delle affermazioni significative. E poi, tra le altre cose, dovrebbe esserci questo momento conclusivo finale di un evento artistico con contributi musicali, contributi anche di carattere artistico e spettacolare, con i nostri studenti passati e presenti. Si pensa anche ad una possibile riscoperta delle vecchie sedi del liceo. Questa scuola ha avuto tre sedi, la prima è quella più antica, presso il carcere Tribunale di Caltanissetta, adesso è un locale del Comune di Caltanissetta, poi una seconda sede, anche questi sono locali pubblici, nel Comune di San Francesco, la terza sede è quella più recente, dove siamo in questo momento, in questi locali. Quindi dovremo fare una sorta di viaggio con chi vorrà, noi stessi e i cittadini di Caltanissetta, per conoscere questi luoghi, se sarà possibile fare questa cosa. Grazie a tutti.